salve ragazzi oggi vediamo come settare la radio o un modulo express rls per avere la massima risoluzione sul canale 5 il canale 5 di solito viene utilizzato per armare il motore e quindi la risoluzione prevista da express rls è per uno switch a solo due posizioni ma alcuni flight controller tipo lo zotco pilot la serie lefei e il più vecchio archivir prevedono che sul canale 5 ci sia settato uno switch a tre posizioni per i mode volo per quanto riguarda le riceventi express rls pvm basta rimappare il canale 5 con l'uscita del canale 6 ma per quanto riguarda le riceventi non pvm potete usare questo metodo questo è tutto per oggi vi ricordo se vi piacciono i contenuti del canale non scordatevi ad iscrivervi grazie ciao 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.